ciao a tutti amiche in questo video vi mostro come realizzare questo bellissimo portafoglio l'ho fatto con un punto come vedete che ha questo rilievo che dà comunque un tocco in più al progetto poi ho inserito anche quest'etichetta molto particolare in legno è un portafoglio che si chiude con questi bottoni magnetici poi abbiamo due tasche molto capienti quindi è un progetto perfetto per riporre all'interno le nostre carte i documenti e tanto altro ancora inoltre è un progetto che si realizza anche con pochissimo filato io ho utilizzato 100 grammi di filato io spero che questo progetto vi piaccia vi aspetto naturalmente giù nei commenti e vi ricordo di seguirmi anche sugli altri miei social giù in descrizione comunque vi lascio tutti i link di riferimento ma adesso passiamo subito ai materiali per realizzare questo progetto userò un cordino da lavorare con l'uncinetto dal numero 4 al 5 va benissimo qualsiasi cordino io abbino a questo filato l'uncinetto numero 4 inoltre ci occorreranno due bottoni magnetici un ago di questi in plastica con la cruna un po più grande ci potrebbe servire anche del filo trasparente in nylon un segnapunti e un'etichetta come questa questa è in legno va benissimo qualsiasi etichetta questa è semplicemente decorativa per realizzare questo progetto userò un punto fantasia multiplo di 4 più 3 questo significa che dobbiamo avere comunque un numero divisibile per 4 nel mio caso io avvio un totale di 28 catenelle quindi lascio un po di filo e avvio le mie catenelle questo è il nodino iniziale che non si conta e poi vado a lavorare un totale di 28 catenelle dopo aver fatto le 28 catenelle che vi ricordo devono essere multiplo di 4 vado a lavorare altre 3 catenelle perché il multiplo è di 4 più 3 quindi alla fine aggiungo 3 catenelle 1 2 e 3 quindi in questo caso io mi ritrovo con un totale di 31 catenelle a questo punto inizio a lavorare il primo giro per prima cosa salto 3 catenelle quindi 123 vado qui nella quarta catenella e lavoro una maglia alta in questo caso queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta poi lavoro una maglia alta per ogni catenella sottostante vado avanti in questo modo fino alla fine di questa fila alla fine mi ritrovo con un totale di 29 maglie anche perché queste 3 catenelle che ho saltato rappresentano proprio una maglia alta a questo punto facciamo il secondo giro per prima cosa faccio una catenella e giro il mio lavoro in questo caso questa catenella sostituisce una maglia bassa la vado a segnare in questo modo e vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante salto il primo punto perché appartiene proprio a questa catenella quindi salto questo punto vado qui in quello successivo e lavoro una maglia bassa faccio una maglia bassa per ogni punto sottostante fino alla fine sono arrivata qui alla fine del secondo giro faccio l'ultima maglia bassa sulla terza catenella quindi salto una due vado qui nella terza catenella e lavoro una maglia bassa e questo è il secondo giro facciamo il terzo giro per prima cosa faccio 3 catenelle giro il mio lavoro in questo caso queste 3 catenelle sostituiscono una maglia alta poi lavoro altre 3 maglie alte naturalmente salto questo punto che appartiene al primo vado qui nel secondo punto e lavoro una maglia alta e poi ne lavoro altre due quindi 1 e 2 quindi qui alla fine ho un totale di quattro maglie 1 2 3 e 4 a questo punto devo lavorare una maglia alta doppia però la vado a lavorare qui in basso per prima cosa metto due fili sull'uncinetto in questo modo e poi partendo proprio dalla prima riga quindi il primo giro che ho fatto salto una maglia quindi salto questa salto la seconda la terza la quarta vado a lavorare qui nella quinta maglia e vado a lavorare una maglia alta doppia in rilievo davanti quindi ho messo due volte il filo sull'uncinetto vado qui in basso questa è la quinta maglia prendo come vedete la maglia in rilievo davanti poi filo sull'uncinetto passo in questo modo attraverso e poi chiudo due a due le asoline e come vedete ho lavorato la mia maglia alta doppia in rilievo davanti questa è la quinta maglia poi faccio tre maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte in questo modo e di nuovo lavoro una maglia alta doppia quindi due volte il filo sull'uncinetto questa volta però salto tre punti qui in basso questa è sempre la prima riga quindi salto 123 qui nella quarta maglia vado a lavorare questa maglia alta doppia in rilievo davanti quindi vado qui davanti al punto passo da quest'altra parte e prendo il filo e poi chiudo due a due queste asoline in questo modo quindi come vedete soltanto qui all'inizio saltato 4 maglie e anche qui e poi qui invece si saltano 3 maglie sia qui in alto e anche qui in basso ancora rivediamo vado a lavorare tre maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte e poi lavoro una maglia alta doppia in rilievo davanti due volte il filo sull'uncinetto vado qui nella prima riga e salto 1 2 e 3 maglie e vado qui nella quarta nel lavoro questo punto in rilievo davanti quindi chiudendo due a due le asoline quindi proprio come se volessi fare una maglia alta doppia però la prendo in rilievo davanti rivediamo di nuovo vado a lavorare tre maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte e poi una maglia alta doppia in rilievo davanti qui in basso dopo aver fatto questa maglia in rilievo davanti salto una due tre maglie vado qui nella quarta e lavoro la mia maglia in rilievo davanti in questo modo quindi questa è la sequenza che dobbiamo ripetere sempre quindi abbiamo la maglia alta doppia in rilievo davanti e poi si lavorano tre maglie alte andate avanti sempre in questo modo e poi vediamo qui alla fine come chiudere questo giro sono arrivata qui alla fine del terzo giro a questo punto dopo aver fatto questa maglia alta doppia in rilievo davanti lavoro qui quattro maglie alte 1 2 3 maglie alte e l'ultima maglia la lavoro qui questa è la catenella che ho fatto nel giro sottostante quindi tolgo il segnapunti e lavoro qui l'ultima maglia alta e ne ho quattro quindi qua ho quattro maglie alte infatti questa è la fine del giro e questo è l'inizio del giro e anche qui ho quattro maglie alte quindi questo è il terzo giro facciamo il quarto giro per prima cosa faccio una catenella e giro il mio lavoro questa catenella sostituisce una maglia bassa poi metto un segnapunti sulla catenella e a questo punto lavoro tutte maglie basse salto questo punto perché appartiene proprio alla catenella vado in quello successivo e lavoro una maglia bassa vado avanti facendo una maglia bassa per ogni punto sottostante fino alla fine del giro sono arrivata alla fine del quarto giro lavoro l'ultima maglia bassa qui sulla terza catenella quindi vado qui e lavoro l'ultima maglia bassa e questo è il quarto giro facciamo il quinto giro per prima cosa faccio tre catenelle giro il mio lavoro in questo caso queste catenelle sostituiscono una maglia alta poi lavoro altre tre maglie alte salto questo punto che appartiene proprio alle catenelle vado qui e lavoro altre tre maglie alte quindi uno due e tre maglie alte quindi qui in totale o uno due tre quattro maglie alte in effetti a questo punto sto ripetendo il terzo giro quindi sto ripetendo questo giro dopo aver fatto le mie quattro maglie alte a questo punto lavoro una maglia alta doppia in rilievo davanti qui è molto semplice riconoscere la maglia perché vado a lavorare su questa maglia alta doppia che ho già lavorato qui in questo giro quindi vado sempre a prendere la maglia in rilievo davanti quindi passo in questo modo prendo il filo lo porto da quest'altra parte e chiudo due a due le asoline e quindi in questo modo ho lavorato la mia maglia su quella che era già presente proprio qui in questo giro nel terzo giro vado avanti vado a lavorare qui tre maglie alte quindi uno due e tre maglie alte e poi lavoro una maglia alta doppia in rilievo davanti come vedete questa è la maglia in rilievo di questo giro io vado direttamente qui lavoro intorno a questa maglia e la prendo in rilievo davanti chiudendo due a due le asoline di nuovo lavoro 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte poi lavoro una maglia alta doppia in rilievo davanti vado su questa maglia che ho già lavorato su questa maglia in rilievo davanti entro in questo modo prendendola proprio in rilievo davanti prendo l'asolina e poi chiudo due a due tutte le asoline in questo modo quindi andate avanti sempre con questa sequenza dopo aver fatto la maglia alta doppia in rilievo davanti si lavorano tre maglie alte e di nuovo vado a lavorare la maglia alta doppia in rilievo davanti prendendo proprio questa maglia in rilievo che ho già fatto in questo giro poi vediamo qui come si chiude il giro sono arrivata alla fine del quinto giro fatto qui l'ultima maglia alta doppia in rilievo davanti e adesso lavoro quattro maglie alte 1 2 3 la quarta maglia alta la faccio qui su questa catenella del giro sottostante quindi vado qui e lavoro l'ultima maglia alta e anche in questo caso qui mi ritrovo quattro maglie alte anche all'inizio del lavoro o quattro maglie alte a questo punto per andare avanti nel lavoro non ci resta che ripetere sempre due giri il quarto giro e il quinto giro questo il giro a maglie basse e poi abbiamo questo giro che abbiamo appena visto quindi i giri da ripetere sono due quarto e quinto giro fino a realizzare la grandezza che ci serve come vedete sono andata avanti nella lavorazione e questo è il mio pannello vi dico che a me questo pannello ha una larghezza di 21 cm per un'altezza di 26 cm a questo punto dopo aver realizzato il pannello come vedete questo è il dritto del lavoro e questo è il rovescio lo giro in questo modo quindi qui ho il rovescio e faccio queste pieghe vado a fare una piega di circa 6 cm sia qui nella parte bassa e anche qui nella parte alta quindi devo avere 6 cm sopra e 6 cm sotto quindi dopo aver fatto la mia piega in questo modo quindi dobbiamo avere comunque 6 cm qui in alto e 6 cm qui in basso bisogna fare questa cucitura per chiudere appunto questa parte e anche questa parte naturalmente potete anche prendere la misura ad esempio con delle carte inserendole in questo modo e prendete appunto la misura che vi serve dovete comunque lasciare qualche centimetro qui nella parte centrale quindi io più o meno lascerò vi dico quanti centimetri lascio io più o meno lascerò 3 cm qui nella parte centrale perché poi devo andare proprio a cucire queste due parti poi qui al centro posso fare una cucitura anche con del filo trasparente in questo modo posso creare una sezione da un lato e dall'altro per inserire appunto le varie carte quindi adesso metto qualche segnapunto e poi vediamo anche come fare questa cucitura per la cucitura parto proprio da un lato messo anche un segnapunti sempre con il filo in tinta ho fatto anche un nodino inizio questa cucitura vado qui nella parte alta prendo due asoline e faccio passare il filo qui sotto in questo modo avrò all'interno anche il nodino e tiro poi vado da quest'altra parte e anche qui prendo due asoline e poi vado da quest'altra parte e prendo anche qui come vedete due asoline e poi tiro io in questo caso farò la cucitura dalla parte del dritto anche perché poi vedrete che non si vede assolutamente quindi prendo due asoline da un lato due asoline da quest'altro lato e poi tiro devo tirare per bene quindi prendo le asoline da un lato e anche da quest'altro lato e tiro quindi prenderò due asoline da un lato e due anche da quest'altro lato quindi vado avanti in questo modo anche qui comunque prendo questa lavorazione per arrivare da questa parte e continuare a fare la cucitura come vedete sono arrivata qui quindi qua non ho a doppio il lavoro vado semplicemente a dare qualche punto per arrivare proprio da questa parte quindi do ho semplicemente qualche punto prendendo anche soltanto una solina perché devo arrivare proprio a lavorare qui e quindi chiudere questa parte quindi come vedete sono arrivata qui posso proseguire nella mia lavorazione prendendo due asoline da un lato e due da quest'altro lato e tiro quindi vado avanti sempre con questa cucitura fino alla fine naturalmente arrivo fin qui e nascondo poi qui nel retro il filo come vedete ho fatto le cuciture e non si vedono assolutamente per quanto riguarda questo spazio l'ho lasciato perché in questo modo possiamo chiudere il portafoglio così è veramente molto semplice aprirlo e chiuderlo quindi bisogna comunque lasciare questo spazio il prossimo passaggio è quello di cucire i bottoni magnetici io li cucirò in questo modo quindi li posiziono qui in questo modo e poi li vado a cucire io userò comunque del filo trasparente in nylon è un passaggio semplicissimo perché come vedete questi bottoni hanno questi forellini quindi ci permettono proprio di entrare con l'ago e quindi andarli a cucire quindi adesso li vado a posizionare li vado a cucire poi vediamo il risultato finale come vedete ho posizionato in questo modo i bottoni magnetici qui nella parte bassa ho posizionato questi bottoni e poi qui ho posizionato gli altri un po più in alto quindi ho lasciato questo spazio io ho lasciato tre centimetri e poi ho posizionato questi bottoni nella parte più alta qui invece li ho posizionati più in basso come vedete si chiude molto bene questo portafoglio ed è anche molto capiente ho cuscito anche qui al centro l'etichetta per dare un tocco in più per quanto riguarda la misura da chiuso io mi ritrovo con 21 centimetri di larghezza per un'altezza di 7 centimetri e ho utilizzato circa 100 grammi di filato quindi veramente pochissimo filato per realizzare questo progetto che può essere perfetto anche per fare un regalo io spero che questo progetto vi sia piaciuto fatemi sapere naturalmente nei commenti che ne pensate come vedete le tasche sono comunque capienti noi naturalmente ci vediamo a breve per i prossimi video e per i prossimi tutorial ciao a tutte